19.32, minuti primi, buonasera dalla redazione giornalistica di Teleradio R. Subito in apertura c'è la cronaca con un singolare furto subito la scorsa notte in un negozio di avvigliamento situato nel centro storico di Foggia in via Arti. I ladri per introdursi nell'attività commerciale hanno praticato un foro nella rete adiacente al negozio entrando in un portone disabitato. Tommy Guerrieri. E l'8 giugno a Palazzo Madama su richiesta dei senatori Colomba Mongello e Michele Saccomano si terrà un'addizione con il ministro Fazio per chiedere le reali motivazioni della cancellazione dell'Agenzia sulla sicurezza alimentare. Ci relaziona Marcia Campagna. La politica aria tesa nel PDL tra nominati e portatori di voto. Su una tensione che contagia anche Palazzo Dogana dove il presidente Antonio Pepe ha le prese con una difficile verifica. Smentita categoricamente la voce che vede il ritorno in giunta di due esponenti dell'Udc. Vincenzo Derrico. La sanità Sittindi protesta questa mattina davanti alla sede centrale dell'Aso di Foggio da parte dei lavoratori della sanità privata. Chiedono maggiori certezze e chiedono soprattutto di essere tutelati. La seguita Tommy Guerrieri. Ed ora ci spostiamo in provincia. È iniziata questa mattina la cantierizzazione per i lavori del nuovo porto di Manfretonia. La struttura che sarà pronta entro un paio di anni. Prende il nome di Marina del Gargano e prevede 660 posti barca per un costo complessivo di 50 milioni di euro. Vediamo. Ebbene noi andiamo ora in fascia pubblicitaria. Subito dopo vi mostreremo le immagini di Comics Day. La mostra visitata per noi da Luigi De Martino. Ci saranno i consueti aggiornamenti dal fronte calcistico con Antonio Di Donna. Trano Molto. 43 minuti dopo le 19. Eccoci ritrovati insieme per proseguire l'informazione della nostra emittente. Anche Foggia partecipa al Comics Day, la giornata nazionale del fumetto con una mostra allestita negli spazi espositivi della Magna Capitanata. La biblioteca provinciale mostra visitata per noi da Luigi De Martino. E questa sera alle ore 21 Teleradio RV trasmetterà la registrazione integrale della presentazione del libro di Toni Di Corcia Gianni Slash Versace, lo stilista dal cuore elegante che si è tenuta lo scorso 26 marzo negli studi di Superstudio Più di Milano, nell'ambito della terza edizione della rassegna Contemporary Art. Infine vi anticipiamo che la presentazione del libro Foggiana di Toni Di Corcia avverrà venerdì 28 maggio alle ore 19, qui negli studi di Media Farm, la cittadella della comunicazione. E si avvicina intanto per il Foggio e il momento verità lo scontro di domenica nella prima dei play-out contro il Pescina. Rottoneri che si allegano a Castello di Sangro. Noi nel frattempo, meglio noi, Antonio Girona, nel frattempo intervistato l'esperto di Dega Pro, Ezio Lino Capuano. Ascoltate. Bene, noi siamo in chiusura. Prima di salutarci, spazio alle previsioni del tempo. Partiamo da domani, sabato, dove è previsto cielo irregolarmente nuvoloso, temperature ancora al di sotto della media stagionale, venti moderati da ovest, mari molto mossi. Per dopodomani, domenica, si prevede cielo sereno, temperature in deggero rialzo. Ed è tutto per questa edizione, se volete con me ci rivediamo alle 22.30 per una nuova edizione del telegiornale di Teleradio R. Arrivederci.